L'emergenza da Covid-19 continua ad impegnare gli operatori e le strutture sanitarie del Verbano Cusiossola che garantiscono lo stato attuale 240 posti letto Covid distribuiti tra gli ospedali di Verbagna, Domodossola, Omenia e le strutture di Piancavallo e Miazzina. Potenziati i posti letto di terapia intensiva Covid portati a 17 più 2 allestiti presso il COC di Omenia. Da lunedì saranno disponibili ulteriori 20 posti letto presso Oxologico di Piancavallo che saliranno a 60 con ulteriore possibilità di espansione entro i primi di dicembre portando la disponibilità totale potenziale di posti letto Covid nel nostro territorio a 340. Ulteriori valutazioni sono in corso per il potenziamento dell'attività di continuità assistenziale. L'emergenza Covid anche in questa fase non ha risparmiato alcune strutture di ricovero anziani. L'azienda sanitaria spiega l'Asla VCO sta seguendo da vicino le 20 RSA e tra R.A. presenti nel territorio di competenza avendo messo supporto del sistema oltre ai medici delle USCA personale infermieristico che sta intervenendo in alcune di queste strutture. La commissione di vigilanza per le strutture sociosanitarie assistenziali con il personale dell'ufficio prevenzione e rischio infettivo in aggiunta al proprio compito istituzionale supporta le strutture di ricovero. Per supportare le situazioni dove si registra una difficoltà respiratoria sono stati acquistati o noleggiati più di 140 concentratori di ossigeno da utilizzare sul territorio sia per la presa in carico di pazienti Covid a domicilio e sia per le strutture sanitarie per anziani. È prevista l'attivazione del servizio di esami radiologici a domicilio e nelle RSA-RA dalla settimana prossima grazie a un'ulteriore donazione del comitato polente Shiryui. Quest'opportunità si aggiunge agli ecografi portatili che sono stati donati dalla fondazione comunitaria del VCO nella prima fase e che sono dati in dotazione alle tre USCA che sono già in funzione. Si intende anche sottolineare prosegue l'ASL la collaborazione straordinaria che l'azienda sanitaria sta offrendo alle RA e alle RSA così come ribadire che l'accesso agli ospedali e alle strutture sanitarie è sempre garantito nei casi di necessità soprattutto quando i quadri clinici valutati dal personale medico competente consigliano il ricorso alle cure ospedaliere. Si ricorda inoltre che l'intervento del 118 è coordinato dalla struttura del Dipartimento di Emergenza Urgenza regionale presso la AOU di Novara. I dati dicono dall'ASL dimostrano un'eccezionale appropriatezza dei percorsi di accesso a idea del nostro territorio e un importante contributo della rete territoriale di riferimento ciò che consente allo Stato un equilibrio nei servizi di cura di nostra competenza.